... Sei molto soddisfatto della conduzione di quest'anno? Assolutamente, la stessa conduzione la riporteremo su Ciaxi Canta dopo il giorno di prossimo e andremo in onda per altre 10 settimane sul radio del venerdì sera, bella soddisfazione. Con Sky e il digitale terrestre è difficile fare gli ascolti che si facevano una volta. Come siete riusciti con i raccomandati? Considero Sky una nuova piattaforma innovativa. Abbiamo il canale televisivo sia la FTP su Sky, però se i progetti sono di qualità, la TV generalista è senza concorrenza. La I1 è da sempre la rete su cui ambiscono tutti a lavorare. Noi abbiamo fornito a lavorare con successo e con grandi professionisti, è bello. Ma un giovane produttore di successo, capita che arrivino richieste di raccomandazione? Mi arrivano costantemente, se posso aiuto volentieri, soprattutto che comunque si gioca una possibilità in un'occasione come quella del programma televisivo. È bello raccomandare se vale la pena farlo. E invece quando devi terriblare qualche raccomandazione come fai? Ah, quello lo faccio costantemente ogni giorno, però fa parte del gioco. Grazie a tutti.